Ah, altra carne! Dall'aspetto dei guerrieri, questa battaglia delle cento mani sarà ricordata per secoli. Esatto. La gente ne parlerà negli anni a venire. L'attrezzatura potrebbe fare la differenza tra vita e morte. Non dimenticare di far visita al Gernadio per l'armatura e le armi migliori. Grazie, Drachium. Preparatevi, i guerrieri! La battaglia sta per iniziare! Ah, eccoti, Mistios! Ancora una volta siamo qui riuniti per la battaglia delle cento mani! Esatto! I guerrieri più valorosi del mondo greco sono qui per mettere alla prova la loro forza e la loro abilità. Che sia la lama più affilata dell'esercito ateniese o lo scudo più saldo di Sparta, ogni guerriero qui sarà da solo contro tutti! Alla fine, gli ultimi due sfidanti si batteranno in un luogo speciale, ma solo uno diventerà campione! Che la battaglia delle cento mani abbia inizio! Tenete a mente questo suono! Lo sentirete nel corso della battaglia! Serve a indicare i vostri progressi! Ora combattete! Alla fine! Ok, ok. 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 Ok, ok.